E anche per la categoria 611 classe A, performer completo uomo e donna, i nostri giudici hanno deciso di farlo rappresentare da un unico uomo e un'unica donna. Quindi a voi regi iniziamo con la categoria delle donne. 611 classe A, performer completo donna. Numero di gara 663 Gaia Manrique. Dannazione, scusate, posso riprovare, grazie. Sentirai quelle note Chiuderai gli occhi tuoi Cambierai l'armonia dentro te Buon rapile Senti e vivi L'emozione in tutti i sensi Danzerà Take a passion And make it happen Prende vita e sogni per sempre Danzerà What a feeling What a feeling Senti e vivi L'emozione in tutti i sensi Danzerà What a feeling Senti e vivi What a feeling Senti e vivi Senti e vivi Senti e vivi Senti e vivi